Buonasera a tutti, bentornati con noi, buonasera Marco. Buonasera a tutti voi. Torniamo a parlare di Siria, dei bombardamenti che si stanno verificando in questo paese, inaugurati dalla Russia, delle polemiche scoppiate proprio per gli obiettivi che sarebbero stati scelti dai russi, da Putin, che non riguarderebbero basi o insediamenti dell'Isis, quanto più che altro gruppi di ribelli moderati al regime di Assad, perché sappiamo la Russia, l'abbiamo già detto, sostiene il regime legittimo di Assad. Quindi si sta creando, diciamo, in Siria proprio si sta realizzando lo scontro della tensione che oppone Stati Uniti e Russia. E in questo scenario anche l'entrata in gioco di queste ultime ore, la notizia dell'Italia insieme agli alleati che inizierà a bombardare appunto l'Isis, però non in Siria, in Iraq. E questo perché? Perché l'Iraq ha chiesto l'intervento italiano, cosa che ha fatto la Siria, per esempio, con la Russia e quindi l'Italia parteciperà. E anche questo creerà, dopo lo vedremo, crea qualche dubbio a tutti noi, anche in Parlamento probabilmente. Quindi io direi vediamo subito i servizi e quindi poi commentiamo. Vediamo. Il presidente siriano Bashar al-Assad difende a spada tratta l'intervento della Russia nella crisi siriana, giustificandolo come un'esigenza di sicurezza internazionale. A suo dire, infatti, in caso di fallimento dell'azione della coalizione formata dalla Russia e dei suoi alleati contro i gruppi terroristici attivi in Siria, la disgregazione dell'intera regione medio-orientale potrebbe diventare uno scenario assai probabile. Allarme è stato lanciato dal presidente siriano nel corso di un'intervista della televisione di Stato iraniana, che lo interrogava sulle possibilità di successo della coalizione tra Russia, Damasco, Iran e Iraq, impegnata contro le milizie terroristiche islamiste. La coalizione deve avere successo, altrimenti l'intera regione sarà distrutta, non solo uno o due paesi. Di questo abbiamo assoluta certezza, ha risposto Assad. Il presidente siriano ha poi puntato il dito contro quei paesi e quelle alleanze che dicono di voler combattere il terrorismo, mentre sono o sono stati alleati diretti di quegli stessi gruppi terroristici. Il riferimento alle monarchie del Golfo e all'Occidente, che hanno appoggiato in passato le milizie che combattevano il regime di Damasco, senza sottilizzare troppo sulle loro credenziali politico-militari. I paesi che appoggiano il terrorismo non possono combattere, l'ho sottolineato il presidente siriano. Questa è la realtà della coalizione occidentale. Questa è anche la ragione per cui dopo oltre un anno di bombardamenti non si vedono risultati. Anzi, quello che si vede è esattamente il contrario di quanto proclamato. Il terrorismo si allarga dal punto di vista territoriale e anche il numero delle organizzazioni terroristiche sta aumentando. Il prezzo da pagare sarà certamente alto, concluso Assad, che si è detto comunque fiducioso che la coalizione guidata dalla Russia otterrà i risultati sperati. Il presidente siriano ha anche invitato le potenze occidentali ad aderire all'iniziativa di Mosca. Il presidente statunitense Barack Obama, duramente accusato dall'opposizione repubblicana di essere stato troppo vago e indeciso nei confronti di un'azione militare contro le milizie dell'ISIS, per la prima volta dopo il recente incontro con il presidente russo Vladimir Putin alle Nazioni Unite, regisce duramente l'intervento diretto e determinato della Russia nel teatro medio-orientale, che ha scompaginato gli equilibri regionali a tutto vantaggio di Mosca. Nel mirino della Casa Bianca, l'uomo forte di Damasco, il presidente Bashar al-Assad, che ha detto di Obama, non può essere riabilitato e rimesso in gioco nello scenario politico siriano. Se la Russia ha intenzione di continuare a sostenerlo, ciò non potrà che provocare un disastro, in quanto questo tipo di approccio agevola solo gli obiettivi dello Stato islamico, ha spiegato il presidente americano. La ragione per cui Assad è ancora al potere, ha detto Obama nel corso di una conferenza stampa, dipende dal sostegno che gli viene fornito da Russia e Iran. In questo senso non si tratta certo di una differenza sostanziale da quanto Mosca ha sempre fatto in passato. Adesso è tutto molto più palese. Secondo il presidente degli Stati Uniti non è possibile sostenere un regime in viso alla maggioranza dei siriani, un regime brutale che reprime e massacra i suoi cittadini. Per questo una soluzione militare per cercare di tenere al potere Assad e pacificare la popolazione non può portare a soluzioni durature. Non faremo di quella siriana una guerra per interposta persona tra Stati Uniti e Russia, sarebbe per noi una pessima strategia, ha concluso Obama. Si tratta infatti di un conflitto tra la Russia, l'Iran e Assad, contro la stragrande maggioranza del popolo siriano. In questi servizi abbiamo visto le due posizioni completamente distanti di Russia e Stati Uniti, intanto però si bombarda, abbiamo visto la devastazione della Siria ormai ridotta a uno spettro di paese, sembra quasi proprio un paese deserto. Beh, credo che con la nostra trasmissione, il libro del mondo, noi giustamente diamo una grande importanza alla questione medio orientale e in particolare alla questione siriana, perché oggi la Siria è veramente il punto più drammatico e più grave sull'intero pianeta. Anche la Libia è in una situazione drammatica, ma la Siria è in una situazione, se si vuole, ancora peggiore. Se non altro perché il dramma umano e le popolazioni che stanno soffrendo di questa guerra, che non è più solo una guerra civile. Stiamo assistendo in questi giorni, in queste ore a un'escalation e adesso per i nostri telespettatori cercheremo anche di approfondire cosa c'è dietro, un quadro di lettura e di comprensione di quello che sta accadendo. Perché questa escalation è innanzitutto un'escalation militare e quindi noi dobbiamo da un lato richiamare l'attenzione sul dramma delle popolazioni. L'abbiamo detto più volte, ormai i morti in Siria hanno superato i 240.000 da quando è iniziata la guerra nel 2011. I profughi che non sono più nelle loro abitazioni, dentro la Siria, e fuori la Siria ormai sono quasi 10 milioni. 8 milioni sono senza casa. Abbiamo visto la distruzione che il servizio faceva vedere. 8 milioni di persone di cui oltre 4 milioni sono in campi profughi, che sono dei paesi che circondano la Siria. Se vediamo anche poi la cartina, vedremo che comprendiamo meglio come la Siria sia geopoliticamente cruciale per tutti gli equilibri dell'area medio orientale. I profughi che fuggono dalla Siria sono 1.700.000 solo in Turchia, sono 1.200.000 in Libano, sono anche ospitati in Giordania e poi in Iraq. Ma la questione adesso, diciamo così, è invece l'attenzione internazionale concentrata sulla soluzione. Ecco, questa è la cartina, scusa un attimo, che abbiamo tratto dall'IMES, la cartina giornata. Guardiamola bene attentamente e vedremo che le coalizioni militari, intanto sono coalizioni politiche e militari, non sono una ma sono due. È la coalizione che fa capo agli Stati Uniti, che da sempre si interessa di questioni medio orientali, poi questa puntata parleremo anche della situazione in Afghanistan, e la coalizione occidentale, diciamo così, degli Stati Uniti, vede l'intera Unione Europea stare dalla parte degli Stati Uniti, ma anche la Turchia, che è confinante al nord della Siria, ma anche, soprattutto, i paesi del Golfo, che sono di corrente sunnita, musulmani sunniti. Mentre invece l'altra coalizione, quella capeggiata dalla Russia, ha la propria punto di riferimento principale nella regione, nell'Iran, l'Iran è confinante in realtà con l'Iraq, l'Iraq è confinante con la Siria, l'Iran che è sciita, e ha dalla sua parte tutta la filiera sciita, che è un pezzo di Iraq, che è la Siria di Al-Assad, e che sono in Libano gli Hezbollah. Ecco, allora, seguiamo i colori. Leggiamo la cartina. Allora, la parte, diciamo, in rosso-arancione, è la parte della Siria, delle grandi città, ancora sotto il controllo del regime di Al-Assad e dell'esercito, chiamiamolo, lealista. Come vedete, comprende la capitale, che pur in alcune periferie Damasco è controllata o comunque è insidiata da forze anti-Assad, ma di tipo non stato islamico, perché sono in arancione, come vedete. La parte rossa, oltre a Damasco, comprende tutta la parte delle grandi città di Oms e di Oma, e la costa. Perché la costa? Vi segnalo la costa che sta sul Mediterraneo, quindi sopra il Libano e poi Israele e sotto la Turchia. Vedete i tre punti? Sono tre insediamenti militari russi. La Russia ha lì, su queste tre città della costa siriana, la propria base di sommergibili e la propria base navale. Quindi vedete la Takia, Tartus, e che sono proprio i due insediamenti in cui da sempre il regime di Al-Assad ha concesso le basi militari della Russia per avere un ruolo nel Mediterraneo. Ecco perché la Russia da sempre è alleata del regime di Al-Assad o della Siria. Quelle zone rosse, come vedete, sono però la minima parte dell'attuale Siria. Vediamo chi è invece lo Stato islamico. Sono in viola. Lo Stato islamico ha la propria capitale in Siria, in Raqqa, vedete, poi ha controllato militarmente Palmira, dove recentemente ha distrutto anche alcuni vecchi, diciamo, grandi monumenti archeologici anche legati al periodo ellenistico e che si ispirano anche all'architettura romana di duemila anni fa. Vedete anche che ha un corridoio molto forte che va verso la Turchia e verso praticamente Aleppo, ma la parte in viola più leggera sono la parte invece di sostegno all'Isis. Quindi tra la parte viola spinta e la parte invece meno forte che è in gran parte desertica non è controllata dall'esercito regolare di Al-Assad, ma è in realtà un sostegno, è una zona che territorialmente è controllata dallo Stato islamico. Se vedete la dimensione della Siria significa che quasi due terzi della Siria, anche se molto meno popolata, è sotto controllo dello Stato islamico. Il giallo invece al nord, sia al nord di Aleppo vicino alla Turchia, sia nella frontiera della Turchia, voi vedete questa zona in giallo e questa zona striciata, è la zona kurda. Sono le minoranze kurde che hanno difeso i loro territori, che hanno un autogoverno in quelle aree e che sono veramente i militari più importanti oggi nel contenere l'espansionismo dello Stato islamico. La zona strisciata, gialla e strisciata, sono arabi che in qualche modo sono alleati ancora con i kurdi, mentre infine la zona arancione sono le opposizioni sia democratiche sia democratiche laiche, sia attenzione anche fondamentaliste come al-Nusra, che però sono nemiche di Damasco e quindi vogliono la caduta dell'Assad, ma non sono alleate, ma sono anche nemiche, diciamo così, dell'esercito, delle milizie dello Stato islamico. Quindi ci sono quattro Sirie. Quindi queste arancioni sarebbero quelle che effettivamente vengono protette, diciamo così, dagli Stati Uniti e che sono state invece bombardate. Esattamente, esattamente. Vediamo ancora la cartina perché un'ultima particolarità. Le piccole zone in verde, invece che ci sono, sono piccole in clava dove gli Hezbollah libanesi aiutano l'Assad contro lo Stato islamico e comunque le controllano le milizie libanesi di Hezbollah. Perché? Perché qui c'è un'alleanza, diciamo, degli sciiti. Quindi gli Hezbollah sono una forte presenza sciita in Libano e sono alleati di al-Assad. Al-Assad ha l'appoggio anche di gran parte degli sciiti che hanno la stragrande maggioranza, che poprono la stragrande maggioranza anche dell'Iran. Quindi c'è una filiera, diciamo così, di alleanza della componente sciita che è una componente minoritaria nell'Islam, ma che qui invece è maggioritaria nell'Iran, nella Siria, in parte dove è controllato solo dal governo, perché anche la Siria, in realtà, la popolazione sunnita che è sempre stata subalterna agli sciiti e soprattutto alla componente laico-religiosa di al-Assad che non è propriamente né sciita né sunnita, ma fa parte di una piccola setta storica religiosa che poi si è avvicinata agli sciiti. E allora lì vediamo che davvero oggi sciogliere il nodo militare e politico di una Siria che praticamente significa quattro Sirie e queste quattro Sirie, come le vedete, ciascuna è alleata in modo diverso a una dimensione, diciamo così, di soggetti importanti e di stati a livello internazionale. Quindi quella battaglia che si combatte in Siria non è più solo una guerra interna, sta diventando quella che gli analisti, i politici, esperti di questioni internazionali chiamano internazionalizzazione del conflitto. Non è un caso e torniamo ai servizi che avete mandato e alla tua introduzione, non è un caso che lì si gioca una partita non più solo nazionale, si gioca una partita regionale dell'intero Medio Oriente e addirittura internazionale. Perché? Perché dopo la guerra fredda, dopo la caduta del muro di Berlino, dopo il fatto che il mondo è cambiato dall'89 ad oggi, riemerge la logica dei blocchi. Cioè in realtà non è vero che siamo riusciti a costruire un mondo all'ONU di uguali, di paesi che coprano, ma ancora gli interessi di potenza di ciascun'area tornano a farsi sentire. la Russia torna con Putin ad essere una potenza militare di tutto rispetto e l'ha fatto valere nei confronti dell'Ucraina, nei confronti dell'accaparramento che si è ripresa la Crimea, lo fa valere in quel territorio dove è alleata preferenziale dell'Iran, dove cerca di difendere il regime di Al-Assad dicendo quelle cose che ha detto e cioè un regime legittimo ci ha chiamato Al-Assad e quindi noi possiamo bombardare regolarmente. La Nato nei giorni scorsi ha denunciato quello che tu dicevi in modo esplicito. La Nato lo diciamo per i nostri telespettatori è un'alleanza politico-militare che ha vede presente ormai 28 paesi gran parte dei paesi anche dell'est europeo ormai fanno parte della Nato la Nato militarmente ha sempre un comandante in capo che è statunitense ma politicamente il segretario generale solitamente è europeo. La sede politica e geostrategica della Nato è a Bruxelles esattamente come l'Unione Europea la sede della Nato a Bruxelles si chiama laddove si concepiscono i dibattiti le scelte politiche e militari della Nato si chiama la quercia io l'ho visitata e lì in giorni scorsi è avvenuto questa assemblea dei paesi politicamente che partecipano ai 28 paesi della Nato e hanno condannato la Russia per questa escalation ma in realtà e qui è la parte di riflessione conclusiva di questa parte dell'informazione che diamo ai nostri telespettatori noi assistiamo un escalation da tutte le parti vi ricordiamo che ha cominciato la Turchia che invece di colpire seriamente solo lo Stato Islamico che è il suo avversario ok però in realtà siccome la Turchia vuole la caduta però è contro anche l'Assad e quindi in realtà ha colpito più i kurdi che non lo Stato Islamico la Francia ci si è messa anche la Francia abbiamo detto la scorsa puntata che la Francia sembrava isolata e io dicevo no guardate che la Francia sa già che lì ci sarà un escalation e si porta avanti per conto suo per via della grandeur e adesso infatti ci si è messa anche dicendo che è legittimo essere chiamato dal governo ancora in carica la Russia ma la Russia fa un suo gioco e diverso da quello degli Stati Uniti infine tu giustamente dicevi questa notizia grave che anche l'Iraq a questo punto si muove siamo in un gioco a scacchi ma in cui però per il momento quello che si muove è solo l'elemento militare in attesa ecco qui forse la buona notizia che prima o poi dovremmo dare ai nostri telespettatori si spera che questo braccio di ferro tra la coalizione cappeggiata dai russi e quella cappeggiata agli Stati Uniti è un braccio di forza su quell'area e probabilmente ne fanno le spese le popolazioni ma in realtà prima o poi dovranno cercare di mettersi d'accordo non solo su un'alleanza anche militare in questo momento non c'è se non un coordinamento una reciproca informazione se vogliono davvero fermare lo Stato Islamico ma la soluzione politica la soluzione politica la devono cercare insieme perché il problema rimane sempre Al-Assad rimane o non rimane alla fine della transizione e quindi lì è una partita che noi dobbiamo dire ai nostri telespettatori non può non interessarci perché lì c'è un escalation che fra poco investirà la questione anche di pace e guerra esattamente come fu ai tempi dell'Afghanistan e come fu ai tempi di Bush che volle invadere l'Iraq Bush padre e Bush figlio e allora di queste cose noi dobbiamo assolutamente parlarne perché l'Italia è nel Mediterraneo e perché noi di fatto siamo coinvolti non solo per i disperati gli immigrati nell'equilibrio geopolitico di quest'area del pianeta ecco i bombardamenti non portano mai effettivamente ad una pace purtroppo assistiamo anche in Afghanistan a quello che ancora sta succedendo ma prima di parlare dell'Afghanistan vediamo un attimo le ultime devastazioni l'ultimo sfregio dell'ISIS al patrimonio culturale dell'umanità vediamo come una termite insaziabile l'ISIS riprende a distruggere l'antico sito archeologico di Palmira in Siria questa volta è toccato all'arco di trionfo della struttura fatto saltare in aria dai miliziani dello Stato Islamico secondo quanto reso noto dal sovrintendente dell'antichità della Siria Mamou Abdel Karim abbiamo saputo da informatori presenti sul posto che l'arco di trionfo è stato distrutto il 4 ottobre dopo che i guerriglieri dello Stato Islamico lo avevano nominato qualche settimana fa ha reso noto Abdel Karim situato all'ingresso del celebre colonnato di epoca romana all'arco di trionfo era un'icona di Palmira oggi patrimonio mondiale dell'umanità siamo di fronte a una distruzione metodica della città la vogliono radere al suolo completamente ha lamentato il sovrintendente ad agosto i miliziani di al-Baghdadi avevano distrutto i tempi di Belli di Bal Shamin ma l'ISIS ha minato anche altre parti del sito con l'intenzione di distruggere l'anfiteatro e l'insieme del colonnato temiamo per la sopravvivenza di tutta la città antica ha concluso Abdel Karim che ha anche lanciato un appello la comunità internazionale deve intervenire al più presto per salvare Palmira le bombe non portano niente di buono andiamo in Afghanistan sappiamo che ci sarebbe proprio l'Afghanistan le autorità afghane dietro il bombardamento di Washington ad una postazione ad un ospedale di medici senza frontiere che ha provocato ben 22 morti un fatto gravissimo per cui adesso si cerca anche un'inchiesta a livello internazionale per capire insomma come siano andate veramente le cose e un fatto che i medici appunto di medici senza frontiere non hanno intenzione di archiviare facilmente ma giustamente intanto è intervenuto anche l'ONU Ban Ki-moon dicendo che la cosa è molto grave bisogna fare chiarezza gli Stati Uniti hanno chiesto scusa però hanno dato il compito a verificare i fatti e come stanno le cose al loro esercito alle loro autorità politiche mentre invece davvero occorrerebbe come chiede Metzen Saint Frontier un'autorità terza internazionale che in modo disinteressato e indipendente verifichi le cose le cose comunque si possono lo stesso capire perché Kunduz è la quarta quinta città nel nord dell'Afghanistan è un punto di snodo molto importante diciamo così per poi arrivare più a sud e verso est alla capitale dell'Afghanistan e quindi il fatto più grave avvenuto in queste ultime settimane che è passato un po' sotto il silenzio dei media nazionali dei giornali nazionali è che i talebani l'hanno conquistata e quindi è per la prima volta da quando i talebani sono stati di fatto cacciati dall'Afghanistan oppure si sono rifugiati sulle varie montagne dell'Afghanistan e soprattutto si sono riterati in quelle che si chiamano le aree tribali del Pakistan che tornano in forze e riescono a conquistare una grande città come quella di Kunduz beh a parte l'informazione che circola basta guardare tra le persone che arrivano i profumi che arrivano qua ci sono molti afghani proprio perché i talebani stanno in effetti ritornando ritornando e allora diciamo così che Kabul il governo legittimo di Kabul è quello che ha portato le proprie truppe a cercare di riconquistare Kunduz dai talebani chiedendo l'aiuto della forza militare in modo particolare statunitense e qui è avvenuto che i bombardamenti che dicono sempre che sono intelligenti e selettivi in realtà o sono voluti o non sono o non sono intelligenti o sono in realtà voluti con il pretesto che prova in mente l'organizzazione umanitare dei medici senza frontiere curava forse anche dei talebani esatto c'era 22 morti che ci fossero dei terroristi dentro l'ospedale ma sappiamo che c'erano invece persone che stavano anche erano sotto operazione molti di loro insomma c'erano tanti bambini quindi vediamo un po' che cosa dicono questi servizi vediamo il bombardamento sull'ospedale di medici senza frontiere a Kunduz in Afghanistan da parte di aerei della Nato per MSF è inaccettabile e gravissimo per la ONG da internazionale a Ferrara parla il direttore supporto operazioni Stefano Zannini in questo momento contiamo 16 vittime 9 colleghi di medici senza frontiere 7 pazienti tutti erano all'interno della terapia intensiva fra questi 7 3 bambini contiamo 37 feriti gravi di cui 4 nostri colleghi in pericolo di vita l'ospedale è chiuso abbiamo quindi evacuato tutti i pazienti che c'erano tutto il personale internazionale è rientrato a Kabul e il personale nazionale è rientrato a casa inevitabile data la tipologia di attacco il senso di spaisamento e grande frustrazione ci si sente molto arrabbiati ci si sente molto frustrati ci si sente delusi amareggiati ci si sente incazzati lo voglio dire perché pensavamo e pensiamo di avere fatto tutto quello che andava fatto nonostante questo hanno cominciato i bombardamenti abbiamo immediatamente chiamato Kabul e Washington per chiedere che venissero sospesi e questi bombardamenti sono continuati ripetutamente centrando gli edifici principali dell'ospedale per quasi 40 minuti è una cosa così non è accettabile è vergognosa è disumana e va condannata in tutte le sue forme non so se è un errore ma è sicuramente un omicidio Medici Senza Frontiere chiede un'inchiesta indipendente sull'attacco all'ospedale di Kunduz in Afghanistan del 3 ottobre da Festival di Internazionale a Ferrara Mayne Nicolai è presidente di MSF Belgio responsabile della gestione dell'ospedale gli Stati Uniti hanno promesso un rapporto del Pentagono ma non ci basta noi vogliamo un vero rapporto indipendente sugli eventi di Kunduz è una cosa tragica abbiamo perso 12 operatori 7 pazienti sono bruciati vivi 3 erano bambini è una violazione inaccettabile del diritto umanitario un ospedale in zona di guerra deve essere un luogo neutrale non capiamo perché questo ospedale è stato attaccato più volte in modo molto preciso per questo serve un'inchiesta completamente indipendente avevamo dato le coordinate satellitari dell'ospedale molte volte anche di recente a tutte le forze sul terreno l'esercito afgano gli USA la coalizione le forze di opposizione è un ospedale che opera da 5 anni un grande ospedale non un posto sconosciuto un fatto assolutamente gravissimo certo e infatti è giusto la richiesta di medici senza frontiere di un'indagine indipendente alla fine della trasmissione diamo tre notizie però di contesto perché anche qui i giornali nazionali le televisioni hanno un po' dimenticato l'Afghanistan non isoliamo questo avvenimento gravissimo dal contesto allora il primo dato che dobbiamo dire ai nostri telespettatori è che in Afghanistan il ritiro delle truppe che era stato promesso entro il 2014 l'Italia l'ha fatto l'Italia aveva 4.500 militari in Afghanistan adesso ha diciamo così solo esperti che fanno i consulenti dell'esercito regolare afgano ma gli Stati Uniti e anche altri paesi sono rimasti dovevano ritirarsi nel 2015 cioè entro quest'anno la notizia è che nell'incontro alla Casa Bianca tra Obama e il presidente eletto l'anno scorso dell'Afghanistan Ghani l'impegno degli Stati Uniti è che non si ritirano prima del 2016 2017 perché appunto la situazione è tutt'altro che stabilizzata e quindi ci sono ancora truppe e soprattutto ci sono grandi aeroporti che sono esclusivamente al servizio delle forze militari statunitense e questa è la prima informazione che diamo per dire non è se chiusa la vicenda dell'Afghanistan nemmeno sul piano militare la seconda notizia è che sono un corso trattativo e negoziati tra il governo dell'Afghanistan insieme agli Stati Uniti con i talebani quindi c'è stato un primo incontro nella primavera scorsa in zone segrete del Pakistan proprio per negoziare una specie di accordo politico di grande intesa per cui invece di continuare la guerra i talebani potrebbero accettare di essere inseriti regolarmente nella struttura di potere e nella rappresentanza del nuovo Afghanistan questo primo incontro ha dato buoni risultati se non che altra notizia chiediamo perché è passata in secondo piano il capo di chi era disponibile a portare avanti si chiama Shura di Chetta e cioè il Mullah Omar vi ricorderete il Mullah Omar è morto è morto proprio quest'estate e quindi è stato rinviato il secondo incontro decisivo per quanto riguarda la possibilità di un accordo politico tra appunto i talebani e il governo dell'Afghanistan terza informazione cosa si inserisce a rendere più difficile oggi la questione che i talebani possano accettare di essere inclusi dove e condividendo il potere è nel nuovo Afghanistan il fatto anche qui internazionale del richiamo e delle alleanze con lo stato islamico lo stato islamico nel suo fascino e nel suo progetto politico si fa sentire persino in Afghanistan tra i talebani e i talebani sono adesso rotti diciamo così tra di loro su due diverse posizioni chi vorrebbe continuare perché signore dei territori signore della guerra capacità essendo Pashtun di essere ancora maggioranza per quanto riguarda il futuro governo dell'Afghanistan dentro il potere dell'Afghanistan è una parte che dice invece no non accettiamo un accordo con Ghani l'attuale presidente non accettiamo un accordo di mediazione con gli Stati Uniti ma rispondiamo piuttosto e agli interessi dei servizi segreti pakistani che non sono molto contenti di avere ancora una forte presenza statunitense come protettore del nuovo Afghanistan e dicevo questa parte è anche molto sensibile a radicalizzare le proprie posizioni perché dice noi vogliamo far parte di una lotta complessiva che oggi richiamano a cui richiama lo Stato Islamico quindi pensate lo diciamo i nostri telespettatori come nel mondo tutto ormai si influenza e si contamina per cui anche lì nell'Afghanistan queste posizioni possono condizionare i negoziati riservati per una transizione verso una soluzione politica di un conflitto che dura da quando c'era Bin Laden da quando ci sono state l'attentato 2001 delle Torri Gemelle e ancora dopo 15 anni la situazione non è assolutamente sciolta dal punto di vista politico ma con queste tre informazioni che mi pare possono dare un quadro interessante di come la cosa in Afghanistan sia tutt'altro che risolta e mi sa che sarà lunga anche in Siria purtroppo ancora di più quindi va bene allora noi siamo arrivati alla fine vi salutiamo grazie per essere stati con noi alla prossima settimana grazie grazie a tutti Mabullo, 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 mabullo pronto, pronto, pronto